Dopo la cattura del latitante Matteo Messina Denaro non si arresta l'attività investigativa da parte delle forze dell'ordine. Nella notte, infatti, è stata portata a termine un'altra operazione antimafia a Palermo, dove i carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale hanno eseguito sette provvedimenti cautelari, cinque in carcere e due ai domiciliari, nel mandamento di Pagliarelli e più precisamente nella famiglia di Rocca Mezzomorreale. Il provvedimento è stato disposto dal GIP di Palermo su richiesta della direzione distrettuale antimafia del capologo siciliano ed è stato eseguito tra Palermo, Riesi, in provincia di Caltanissetta e Rimini. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso ed estorsioni, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività mafiosa e di essersi avvarsi dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva. L'indagine conferma le storiche figure di vertice del mandamento già in passato protagoniste di episodi rilevantissimi per la vita dell'associazione mafiosa, come ad esempio la gestione operativa della trasferta in Francia del capo mafia deceduto Bernardo Provenzano per sottoporsi a cure mediche o la tenuta dei contatti con l'allora latitante trapanese Matteo Messina Denaro. Grazie alle intercettazioni e ai pedinamenti militari hanno anche ascoltato una riunione della famiglia tenutasi nelle campagne di Caltanissetta, durante la quale gli indagati hanno fatto più volte riferimento allo statuto delle regole di Cosa Nostra, un vero e proprio codice. In quel contesto si è registrato il costante richiamo degli indagati al rispetto di regole e dei principi mafiosi più arcaici, che sono considerati ancora oggi il baluardo dell'esistenza stessa di Cosa Nostra. Nell'ambito della conversazione captata dai carabinieri si è più volte fatto esplicito riferimento all'esistenza del codice mafioso scritto, che regola la vita di Cosa Nostra palermitana. Gli arrestati dai carabinieri di Palermo nel corso dell'operazione antimafia di questa mattina sono Pietro, Gioacchino e Angelo Balagliacca, Marco Zappulla e Pasquale Saitta, mentre sono andate ai domiciliari Michele Saitta e Antonino Anello.